ciao a tutti oggi prepareremo i cavolfiori gratinati il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono cavolfiore latte farina burro pepe bianco sale noce moscata pepato e acqua i quantitativi ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricette bimbi punto blogspot punti t diamo il via la ricetta iniziamo mettendo nel boccale il pepato lo andiamo a tritare per otto secondi a velocità 7 mettiamo da parte il nostro trito di pepato senza lavare il boccale andiamo a mettere l'acqua andiamo a chiudere con il coperchio senza misurino andiamo a posizionare il vassoio il paroma chiudiamo e andiamo a cuocere per 25 minuti temperatura paroma velocità 1 il nostro cavolfiore è pronto andiamo a mettere da parte adesso andiamo a svuotare nell'acqua il boccale senza sciacquare il boccale andiamo ad aggiungere la farina il burro il pepe il sale e il latte e andiamo a cuocere il tutto chiudiamo col coperchio e col misurino per 7 minuti 90 gradi velocità 3 adesso andiamo ad aggiungere la noce moscata riprendiamo il nostro cavolfiore che abbiamo cotto e andiamo a mettere 70 grammi del pecorino e andiamo a mescolare per altri 5 secondi a velocità 5 adesso andremo a versare sul cavolfiore la nostra besciamella nel frattempo avremo preriscaldato il forno a 200 gradi e andremo a cuocere il tutto per una decina di minuti prima di mettere in forno versiamo il resto del nostro pepato andiamo a mettere in forno cavolfiore gratinato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti